Dopo gli allagamenti che ci sono stati a Padova negli ultimi giorni, l'amministrazione comunale ha deciso di stanziare un milione di euro per gli interventi di pulizia del territorio. Sì, è un finanziamento straordinario che mettiamo a disposizione del settore manutenzione, del settore verde, per risolvere in parte le manutenzioni sulle caditoie, quindi il problema degli allagamenti. Quindi verrà fatto un bando di pulizia straordinaria di tutte le caditoie della città e un fondo per quel che riguarda il settore verde, che dopo il fortunale del 7 di luglio ha dovuto intervenire in maniera molto forte e parti sono ancora da fare per non solo manutenzione, ma mettere in sicurezza i parchi e ovviamente pulire quello che quel brutto tempo ha creato. Sappiamo che le risorse ce ne dovrebbero essere ancora, però intanto un milione di euro dà una risposta immediata a un problema molto sentito. E poi a settembre sarà aperto un bando per la gestione di questi interventi? Sì, è un bando pubblico aperto a società private che ne vorranno partecipare al fine di fare questi interventi. Dall'altra parte comunque c'è una manutenzione ordinaria cadenzata che viene fatta dalla società di servizi di Padova, dalla PS, che in questo caso però dovremmo rivedere un attimino il piano di servizio. Grazie.